Buon pomeriggio e grazie all'Italian Insurtech Association per avermi dato l'opportunità di parlare di diversity. Partiamo dal celebre soffitto di cristallo. Devo dire nella mia esperienza professionale che all'inizio non ho avuto una netta percezione che il soffitto di cristallo esistesse perché ero giovane e quindi entusiasta perché probabilmente 25 anni fa vi era una percezione diversa del tema della diversity, era sicuramente un tema molto meno percepito e anche perché devo dire che probabilmente su quella scala io ero all'inizio, stavo facendo i primi gradini e quindi la percezione era sicuramente diversa. La percezione è cambiata salendo ma devo dire che la mia vita professionale è stata sicuramente molto fortunata fino ad oggi sotto questo punto di vista. Ho incontrato donne e soprattutto uomini molto intelligenti nella gestione di questo tema ma così non è per tutte, così non è stato per molte mie colleghe, non è per molte mie ex colleghe, così non è stato per molte mie amiche, non è così per tutte le donne. I numeri che vedete in questa chart sono dati che tutti un po' conosciamo. Il livello di occupazione femminile in Italia è sicuramente molto basso e anche il salario e i livelli retributivi non sono sempre equiparati a quelli degli uomini. Inoltre molte donne quando diventano madri lasciano il lavoro per rientrarvi in condizioni più sfavorevoli delle precedenti o addirittura per non rientrarvi. Le donne sono dei lavoratori fragili. Il tema fragile, la parola fragile oggi viene spesso utilizzata in termini sanitari ma anche nel tema di emergenza covid, le donne sono state dei lavoratori fragili, sono state coloro che si sono dovute sobbarcare in qualche modo il peso della famiglia, dei figli, dei figli che studiavano a casa e del lavoro smart working per loro stesse e sono anche lavoratori fragili perché le donne sono quelle che hanno contratti molto spesso non a tempo indeterminato ma a tempi determinati o part time, contratti che sono i primi in condizioni come quelle che stiamo vivendo a non essere rinnovati. Veniamo in butto a parlare un po' di quello che poi è il mondo assicurativo. Il mondo assicurativo rispetto a 25-30 anni fa ha fatto dei passi da gigante. Essere donne non è sicuramente una barriera all'ingresso, può esserlo talvolta nel momento in cui le donne si trovano a fare carriera o un certo tipo di carriera in determinati settori ma anche in quelli qualcosa si sta muovendo e comunque i numeri testimoniano che anche nel tradizionale calmo e tranquillo mondo assicurativo qualche cosa è cambiato. Oggi circa il 20 per cento dei dirigenti nel mondo assicurativo in Italia è donna. Arriviamo alla compagnia nella quale lavoro, Net Insurance. Net Insurance è una compagnia decisamente innovativa che ha fatto del digitale e della tecnologia un po' il proprio tratto e la propria cifra distintiva e arrivando a integrare il digitale in tutti gli aspetti della propria catena del valore. Net Insurance ha una grande attenzione al mondo femminile e questo lo testimoniano anche questi numeri. La presenza, con una presenza di donne che supera la presenza maschile e con le donne che sono molto presenti non solo nei livelli impiegatizi ma anche nei livelli intermedi dove la parità tra uomini e donne è pressoché rispettata e nei livelli più alti dove vediamo includendo anche i membri del consiglio di amministrazione che anche in questo caso abbiamo pressoché lo stesso numero di uomini e donne quindi la stessa presenza maschile e femminile. Inoltre Net Insurance è stata pioniera in termini di smart working andando a introdurre lo smart working ben prima dell'emergenza covid e favorendo così per le donne per le molte donne le molte mamme che lavorano in compagnia la conciliazione degli aspetti tra vita e lavoro. Questa è la fotografia un po' del mondo assicurativo ad oggi. Questa situazione è una situazione che è cambiata rispetto come dicevamo a 20-30 anni fa ma una situazione che può ancora e deve ancora evolvere questo senza cercare colpe le colpe cercare colpe non ha senso. Le donne devono essere più pronte e devono più spesso alzare la mano quando viene fatto qualcosa di sbagliato. Gli uomini devono essere più inclusivi sicuramente e bisognerebbe andare naturalmente verso un mondo e verso una società dove la presenza delle donne a certi livelli non dovrebbe più essere sancita dalla legge o dalle leggi o dalle quote rosa ma dovrebbe essere qualche cosa che nasce spontaneamente dal valore delle donne in sé. Come si può arrivare a questa evoluzione? Sicuramente diversificando perché diversificare è meglio questo in tutti i settori. Se guardiamo alcuni dati relativi per esempio al mondo dei social che pervade così fortemente la nostra vita le nostre esistenze ormai vediamo che i brand sensibili alla diversity sono sicuramente i più scelti dai consumatori. La diversity e le leadership diversificate portano vantaggi anche in termini di revenues e inoltre vediamo che i brand sensibili all'inclusione creano maggiori advocates sostanzialmente follower sostanzialmente molte più persone che parlano in maniera positiva di te. Questo è molto importante è molto importante perché è riportato a un mondo che appunto permea tutta la nostra vita e le esperienze sia private che professionali. Quindi qual è la soluzione? Quale può essere la soluzione per il mondo assicurativo per progredire? Sicuramente quella della tecnologia, quella del digitale attraverso sostanzialmente l'insurtech. Così come da un punto di vista di business incumbent e società start-up insurtech collaborano in maniera proficua con un osmosi sicuramente molto proficua in termini di business. La stessa osmosi dovrebbe essere riportata anche da un punto di vista di risorse umane. Questo proprio perché le start-up insurtech operano in maniera diversa, operano in assenza praticamente di legacy e come queste legacy non ci sono da un punto di vista di business non ci sono neanche da un punto di vista di gestione delle risorse. Le start-up insurtech sono più diversificate, sono più inclusive, sono più dinamiche e sotto questo punto di vista sono tutti questi gli aspetti che le società più tradizionali, le compagnie più tradizionali, le grandi compagnie, i cosiddetti incumbent dovrebbero accogliere dentro di sé e cercare di rendere e di trasportare all'interno della propria catena del valore. Quindi possiamo dire che forse è l'inclusione la vera innovazione? Beh, secondo me sì. A me piace molto la parte destra di questa chart sinceramente. Siamo tutti diversi, siamo tutti diversi per molti aspetti, siamo tutti diversi, siamo tutti fatti in mille modi, ma possiamo lavorare insieme, possiamo lavorare in team plurali ed inclusivi, non solo da un punto di vista di gender che è quello di cui fin qui abbiamo parlato, ma anche da un punto di vista anagrafico, di provenienza geografica, tutto quello che volete. L'inclusività è la vera innovazione e questo non per moda, ma per strategia. E questa è anche la strategia di Net Insurance. Noi in questo crediamo veramente. Ritornando da dove siamo partiti, dal soffitto di cristallo e da Marilyn Loden. Marilyn Loden, 42 anni fa, concluse il suo discorso dicendo che le sarebbe piaciuto dire c'è stato un tempo in cui c'era un soffitto di cristallo. Beh, oggi forse non siamo ancora in questa situazione, in questa condizione, ma molti passi in avanti, questo l'abbiamo visto, sono stati fatti e anche a me piacerebbe dire, alla fine della mia esperienza professionale, c'è stato un tempo in cui c'era un soffitto di cristallo. Grazie.